Sono sempre le uova di prima, sempre quello di prima Ah, queste si vedono le uova, era sempre lui, tanto che lo vedevamo da di là Le uova blu Azzurra 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 Si identificano tutto dalla parte di qua, perché c'è il lago Gli alberi di qua non c'è neanche un video Uh, ecco, ecco, ecco Ah Vette di Pasqua, quindi vedremo troppo i piccoli Secondo me riusciremo a vedere i piccoli di questi qua, eh, sì, sì, e come? Ecco perché serve fare il video, perché poi così li vedremo crescere, almeno per un mesetto Ti vedete? Stiamo andando un po' al nido, ti vedete? Eh, foto? Fagli la foto L'avevo già fatta, ecco Eh, adesso è alzata No, ma l'avevo già fatta quando ero alzata La mandiamo sempre allo sveglio No, adesso è passata Ahhhh Ha fatto cacca No, ti vedete che la mandiamo allo sveglio dopo Ma l'avevo già fatta la foto Si vedevano bene le uova? Eh, certo Stai spostando Stai spostando Stai spostando Stai spostando